La stazione di Fano è una stazione che ha sicuramente bisogno di lavori importanti. Fano è la terza città delle Marche, la stazione viene utilizzata da studenti, lavoratori, pendolari, turisti ed è sicuramente in una condizione di arretratezza e direi quasi di degrado. Ha sicuramente bisogno di lavori importanti. Da anni mi sto occupando di questo problema con RFI, le ferrovie dello Stato, e di fatto ieri abbiamo approvato una mozione all'unanimità in Consiglio regionale che dà come obiettivo a RFI di accelerare i tempi di riqualificazione di questa stazione. Sono lavori importanti, Fano diventerà una Easy Station con un investimento di circa 7-8 milioni di euro da parte di RFI. Questo significherà ridare decoro, maggiore accessibilità soprattutto anche per i disabili che oggi non hanno le condizioni di poter prendere il treno in condizioni ottimali, qualità dei servizi, innalzamento dei marciapiedi. Sostanzialmente sarà una stazione con tutta una serie di servizi, nuova, moderna e sicuramente molto più bella. Di questo ce n'è assolutamente bisogno e peraltro fanno non solo la terza città delle Marche, ma anche un nodo di scambio con il trasporto su gomma e quindi ovviamente questa stazione acquisirà in accordo con RFI un ruolo maggiormente importante e di qualità per tutti coloro che ne fruiscono, a partire dai servizi interni, compresa la pensilina che ripara durante il periodo invernale che è stata tolta e non c'è più. Credo che sia una cosa da sottolineare, nel 2020-2021 dovrebbero essere effettuati i lavori, il rapporto con RFI è costruttivo, ringrazio RFI per questa collaborazione e per l'attenzione che viene data alla terza città delle Marche grazie anche al lavoro che abbiamo fatto.